Buongiorno e benvenuti nel canale di Officine Ovarisco. Oggi parleremo di protezione cattodica. Più esattamente parleremo della protezione cattodica eseguita con gli anodi al magnesio. Le piccole imperfezioni che si producono durante la smaltatura all'interno dei serbatoi vengono protetti dagli anodi al magnesio. La corrente che questi generano consumandosi trascina i sali minerali contenuti nell'acqua dalla parte anodica appunto presentata dall'anodo alla parte cattodica che è la parte del serbatoio, la parte infero che rimane scoperta nel nostro serbatoio. Durante questa fase le precipitazioni di calcare vanno a proteggere quelle piccole parti che altrimenti sarebbero attaccate dalla corrosione. Gli anodi per questo si definiscono anodi sacrificali. sacrificali significa per l'appunto che si consumano e il loro consumo che è di circa un 30 grammi per metro quadro al giorno ha comunque delle varianti che dipendono dalla temperatura dell'acqua, dipendono dalla quantità di sali contenuti nella stessa acqua, dipende dalla superficie da proteggere, dipende dalla quantità di magnesio che noi emettiamo, dipende dalla conduttività stessa dell'acqua. La vita media di un anodo possiamo stimarla in tre anni, però sarà bene nel primo anno di vita almeno verificare un paio di volte lo stato di consumo. Quando è che possiamo stimare che l'anodo dovrà essere sostituito? Nel momento in cui il suo volume sarà inferiore di un 50-60% rispetto all'originario dovrà essere sostituito. Ora l'anodo per essere attivo deve essere direttamente in contatto con il salvatoio metallico. Abbiamo visto che il fatto di produrre corrente che deve passare è una corrente continua di circa un volt perché è la differenza di potenziale tra il magnesio e il ferro. Questo corrente per svilupparsi ha bisogno di essere, l'anodo deve essere in contatto elettrico diciamo con il cato del nostro osservatoio. Questo contatto può avvenire direttamente con anodi non isolati che si abitano direttamente al salvatoio e per questo chiudono il circuito, così diciamo. Oppure con un anodo isolato che verrà messo in contatto con il salvatoio attraverso un cavetto dal quale si potrà eventualmente con un semplice strumento misurare il differenziale di corrente e capire se l'anodo è ancora attivo o altrimenti sostituirlo. L'effetto della precipitazione del calcare e del consumo dell'anodo ci farà trovare all'interno del salvatoio nel momento in cui andremo a fare le manutenzioni e una patina biancastra o giallognola attaccata alle pareti specialmente in prossimità delle saldature. Ecco è bene non rimuovere questa patina perché è proprio la pellicola che va a proteggere il salvatoio della corrosione. Mentre sul fondo sarà probabile trovare comunque dei residui dell'anodo, di magnesio, di alluminio che sono precipitati sul fondo, assieme ai sali minerali stessi del precipitato dell'acqua. Ecco questa poltiglia pur non essendo nociva dovrà essere rimossa con un semplice getto di acqua. Con questo è tutto sugli anni di magnesio sacrificali. Spero che il video vi sia servito, se vi è piaciuto mettete mi piace, rimanete aggiornati per i prossimi video azionando la campanella, venite a registrarci sul sito e seguiteci nel magazine sui vari articoli che pubblichiamo. Grazie, alla prossima.